Con coach Luciano Cominetti al termine di Pulli Berta Scantu Sigma Aversa, una sconfitta, una partita che all'inizio è stata lottata, poi dopo è andata un po' incalando. E' una sconfitta che dispiace poi in casa l'ultima partita, perciò avevamo chiesto ai ragazzi di congedarsi dal pubblico perché è stato veramente incommiabile quest'anno, ci ha seguito, sicuramente abbiamo dato delle belle soddisfazioni ma nello stesso tempo l'ultima partita è l'ultima partita, congedarsi con una partita buona sarebbe stato l'ideale. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato molto in ricezione e in battuta e loro hanno fatto in questi due fondamentali invece la differenza. Peccato per il primo set perché avevamo in mano il riaggancio e non ce l'abbiamo fatta, di conseguenza poi dopo loro sono andati sempre più crescendo, noi ci siamo persi poi nel gioco, abbiamo avuto degli sprazi ma su quegli sprazi che sai benissimo che nella pallavolo non contano nulla. Comunque questa sconfitta non inficcia una stagione che possiamo considerare positiva? Ma allora la stagione non è positiva, è estremamente positiva perché comunque noi all'interno, Ambrogio Molteni quest'anno ha deciso di cambiare molto, abbiamo ringiovanito la Rosa e diciamo che forse siamo una delle squadre più giovani del torneo dopo il Club Italia, perciò questo fa capire comunque il risultato che abbiamo ottenuto. Sicuramente dispiace il calare durante la stagione ma dobbiamo anche dire che i giocatori che hanno portato avanti la caretta per tutto l'anno sono quei 6-7, perciò di conseguenza non dimentichiamo che dal palleggio alla banda, al centrale, cioè i tuoi ragazzi che sono del 97 e cai del 96, in pratica abbiamo fatto una buona stagione. Adesso godiamoci quello che abbiamo fatto e poi vedremo. Grazie Coach. Grazie a voi. Grazie a voi.